Ups a tutti, miei cari upsine, upsine, come state? Come, come, come state? Sono qui oggi per fare un video solo per un, solo, solo, solo per un, dove mi prenderò un attimo cura della tua testa, perché secondo me in questo periodo ti sei stressato abbastanza e quindi oggi ti farò un po' un massaggio alla testa, mi prenderò anche un po' cura dei tuoi capelli, oggi proprio ti rilasserai un sacco, quindi indosso un paio di cuffiette o cuffie più grandi, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Ok, allora, prima di tutto fammi un attimo da guardare, fammi un attimo da guardare Allora, cosa farò per cominciare, per cominciare e per essere più sicuro di fare tutte le cose al meglio Ho qui questa scatola contenente di guanti Quanti? Quanti l'attice immagino Ne prenderò due E cercheremo di infilarceli Uno l'ho invitato, adesso. Voila, un di lato anche l'altro. Quindi, adesso io questi due guanti in lattice posso con più sicurezza andare a massaggiarti un po' la testa. Ma prima di farti un massaggio devo fare un'ultima cosa. Perché adesso hai la cute, la testa e i capelli asciutti. E preferisco bagnarli un attimino prima di iniziare a massaggiare. Quindi ho portato qui questo poltino. Appunto, per farti inumidire i capelli e poi per massaggiarteli, massaggiarti tutta la cute in modo da cercare di toglierti il più possibile tutta l'ansia e tutto lo stress. Quindi, iniziamo piano piano. Ok, iniziamo così. E adesso massaggio, massaggio un attimino da questo lato. pure da questo lato. Così. Vado anche con le tue mani facendo come dei grattini. con le tue mani facendo come dei grattini. con le tue mani facendo come dei grattini. Ci vado con le tue mani. Spruzziamo ancora un pochino. Oppure di qua. Oppure di qua. Ok, così basta dai. Adesso posso vedere. Sì, sono belli belli umidi e bagnati dai. Quindi è molto più facile lavorarci sopra. Cra, 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 cra. Ok. Ok. Adesso ho qui. Questa spazzola, una normale spazzola. e andrò a massaggiare e a pettinare più che altro i tuoi capelli. perciò, così, così, così. Voglio fare piano per non invaderti troppo, non essere troppo invadente. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Rilassati, concentrati su ciò che sto facendo, posiamo un attimo la spazzole, torno un attimino con le mani e poi, ancora un'ultima volta col pettine, perfetto Quindi, adesso posso rimuovere i guanti, rimuoviamo i guanti Ok, adesso ti massaggerò ancora un po' la testa, stavolta senza guanti Però, cosa farò? Farò una cosetta veramente carina adesso Se riesco a togliermi il guanti, ok, fatto, 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 fatto Ho qui due fogliettini, questo qui e un altro, non so se lo vedete Con questo cosa farò? Andrò a misurarti un attimino il sebo La produzione sebacea sulla tua cute Come farò? Basta semplicemente che divido un attimo i tuoi capelli Lo farò una volta a destra, una volta a sinistra E strofino leggermente questo piccolo foglietto sulla cute Poi guarderò quanto è pieno di sebo Se è troppo non va bene, se è troppo poco non va bene, deve essere un po' giusto Perciò inizio a dividerti un attimino i capelli di qua Su questo lato Così Così Vado qui E Strovino, strovina, strovino, 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 strovino Strovino, 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 ok Guardiamo dovrebbe andare bene Secondo me, secondo me, è perfetto Adesso pure di qua Dividiamo i capelli, li porto un attimino su alcuni, altri un po' più ciò Mi metto qui e strovino, 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 strovino Perfetto Guardiamo Sì, anche questo va bene Perciò non ti devi preoccupare Hai la giusta produzione di sebo Adesso Per migliorare questa esperienza ti farò appunto un altro piccolo massaggio Stavolta usando però un po' di questo olietto Che adoro anche il suono che fa Mi metto Dovrebbe passare Lo strovino prima un po' sulle mie mani E poi vado appunto sul tuo viso, sulla tua cuda Soprattutto in questa zona qua In questa zona qui A strovinare Magari con movimenti circolari Così, un po' più a modo Così Così, ti ha fatto male in questi giorni? La testa? Eh, ma potevo immaginare, guarda, secondo me, ne ero quasi certo. Ok, ok. Allora, adesso ancora un minutino neanche, facciamo ancora questo massaggio, anche la parte questa un po' più laterale dei capelli, pure questa ha bisogno di essere massaggiata, perciò ci spostiamo sul laterale, 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 laterale. Ok, ok. Io allora ho qua un'ultima, ultima, ultima cosa, ho preparato. Aiuto le mani un po'. Adesso ho questo qui, ho qua un pennellino, perché secondo me è fantastico finire l'esperienza con un po' di tracing del viso con questo pennello, perché secondo me passare il pennello sul viso è pazzesco. Rilassa da morire. Quindi inizierò piano piano con movimenti su tutto il viso. Tutto il viso. Tutto il viso. Tutto il viso. In particolare sulla fronte, adesso. Conoro. Un pulso. Un pulso. Un pulso. Un pulso. Un pulso. Ok, lo mettiamo un attimino da parte, adesso ultima cosa appunto, ti do una spazzolata, giusto giusto, veramente 10 secondi, anche perchè prima per spazzolarti il bene te li ho un po' messi male l'apellino, cerchiamo di sistemarle, ok, 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 secondo me è perfetto, quindi cucù, adesso tocca solo a te, se ti è piaciuto questo massaggio, questo trattamento personale, iscriviti al canale qua sotto, cliccate il tasto iscriviti, e per entrare per parte della UBS community, poi lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, commentate, è importantissimo, dovete commentare, commentate qua sotto, va dicendo di sapere se vi è piaciuto, seguitemi se volete anche in altri social, per esempio Instagram, o c'è qua sotto, in descrizione sempre, come mi chiamo, per ogni rispettivo social, così potete cercare, e niente, il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi stare ancora insieme a me, io ti lascio qua, il mio video precedente, qua, una mia playlist è qua, sotto, il tasto per andare sul mio canale, e vedere qualunque video tu vorrai, quindi adesso io ti mando un grandissimo bacione, un bacio veramente, veramente grande, e ti auguro la buonanotte, dai, quindi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buonanotte, 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 bu